Un altro minore che si vaccina dopo essersi affidato all'avvocato Gianni Baldini a Retino, presidente per la Toscana dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. L'ultima determinazione in ordine di tempo del giudice tutelare di Firenze è dello scorso 31 gennaio. Un minore toscano si era rivolto a Baldini per un disaccordo tra i due genitori in merito alla vaccinazione contro il covid. La madre era favorevole, il padre no. I due non sono separati come invece era accaduto nei casi precedenti seguiti da Baldini. Il giudice ha così affidato ad un unico genitore, in questo caso la madre, favorevole alla vaccinazione, la decisione sul figlio minore che ha potuto ricevere il vaccino anti covid. In Italia dal luglio 2021, afferma l'avvocato, sono stati 37 i minori che si sono vaccinati dovendo ricorrere alla giustizia. In Toscana ho seguito personalmente sei casi di altrettanti minori che sono dovuti ricorrere al giudice tutelare per ricevere la vaccinazione anti covid. Tre erano di Firenze, gli altri di Arezzo, Livorno e Grosseto. Nelle motivazioni della sua decisione, il giudice precisa non emerge che il minore abbia alcuna patologia tale da consigliare una maggiore prudenza nella somministrazione del vaccino.